Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha deciso, sarà chiuso il plesso Nina Guerrizio che avrebbe dovuto ospitare quasi 250 alunni tra scuola materna ed elementare. Eseguite le verifiche sulla vulnerabilità, i tecnici hanno confermato i dubbi dei genitori, l'edificio non è agibile. Gli scolari quindi faranno lezione nella nuova scuola di via Sant'Antonio dei Lazzari, di pomeriggio perché la mattina lo stabile è occupato dai ragazzi della Scarano di via Crispi, chiusa lo scorso mese di febbraio. Il sindaco comunque assicura che il disagio ci sarà fino a dicembre, dopodiché si andrà nella scuola di via Gorizia. Lo ha dichiarato durante la conferenza stampa appositamente convocata ieri pomeriggio a Palazzo San Giorgio. Caustici i commenti alla decisione, ovviamente inevitabile. Ma l'edificio, ora abbandonato, non era stato rimesso a nuovo nel 2012 con una spesa di 400 mila euro. Ora, a distanza di quattro anni, il comune è in trattativa con un costruttore del capoluogo per la vendita. 100 mila euro all'anno. Come ampiamente prevedibile e previsto, quella dell'accoglienza e della cosiddetta gestione dei migranti in regione rischia sempre più di diventare un'emergenza, lungi dal rappresentare un dado di fatto acquisito e metabolizzato. Ed è l'altro ieri un vertice in prefettura a Campobasso per gestire gli interventi alla luce dei nuovi arrivi in regione. Alla riunione, preseduta dal prefetto di Campobasso, Francesco Paolo Di Menna, hanno partecipato gli amministratori dei comuni di Campobasso e Isernia e i vertici dell'azienda sanitaria regionale dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni. I numeri incominciano a farsi significativi, sfiorando l'1% della popolazione regionale. Quasi 2.300 migranti in tutta la regione, di cui poco più di un terzo in provincia di Isernia. Oltre ai quasi 500 migranti del progetto SPRAR, il sistema di protezione per i chiedenti asilo e rifugiati, costituito dalla rete degli enti locali che realizzano progetti d'accoglienza per i chiedenti titolari di protezione internazionale. Una cinquantina le strutture di accoglienza accreditate, metà in provincia di Campobasso e metà in provincia di Isernia. Ribadito il criterio finora seguito, quello di un'equa distribuzione sul territorio regionale e di un raccordo sistematico tra i vari interventi. E' stato affrontato anche il problema dell'assistenza sanitaria in caso di emergenza. Rito direttissimo ieri per il giovane campopassano di 23 anni, arrestato in via Monsignor Bologna dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campobasso, perché trovato in possesso di hashish, marijuana ed eroina, confezionati in piccole dosi, pronte per lo spaccio al dettaglio. E' stato convalidato l'arresto ed è stato inflitto anche l'obbligo di firma. Due foto della visita del comandante della Ogaden, generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, al comando provinciale di Campobasso. L'alto ufficiale ha competenza sulle unità territoriali dell'arma delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. A riceverlo il comandante provinciale, tenente colonnello Marco Bianchi, con gli ufficiali comandanti dei reparti della sede e dell'intero comprensorio provinciale. Il generale Nistri ha poi incontrato anche una rappresentanza di militari dei reparti territoriali e specializzati della provincia, alcuni delegati della rappresentanza militare e i soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri. E' partita l'altro ieri e si chiuderà il 4 settembre a Matera all'Eva Expo Sud, un progetto dedicato all'agroalimentare e alla zootecnica che vuole informare, comunicare e far conoscere i valori della produzione italiana. La manifestazione è organizzata dalle agenzie regionali degli allevatori di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Prevede lo svolgimento di laboratori del gusto, convegni, mostre e degustazioni per presentare e far apprezzare la cultura e la tradizione agroalimentare del mezzogiorno. Presente una delegazione molisana con i caseifici dei fratelli Pallotta di Capracotta, di Franco Di Nucci di Agnone, dei fratelli Angiolillo di Venafro, nonché con la mozzarella di bufala dell'azienda Ranallo di Cantalupo e con il latte molisello di Capracotta. Serata di grande interesse è quella del 3 settembre, durante la quale viserà la degustazione del vitello allo spiedo, curato dall'Ara, associazione degli allevatori Molise. L'associazione Pacioc Onlus propone un corso per diventare clown terapeuti. L'evento formativo, aperto a un massimo di 20 partecipanti, si svolgerà a Poggio Sanita il 9, il 10 e l'11 settembre, nella casa di riposo Cosmo Maria de Oratis. Seguiranno stage di applicazione pratica. Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico. Entrambi agiscono sul sistema nervoso, anestetizzandolo e convincendo il paziente che il dolore non ci sia. Questa è la grande intuizione di Patch Adams, validata nel corso degli anni da numerosi studi scientifici. La clown terapia, meglio conosciuta come terapia del sorriso, è un'attività di sostegno alle cure mediche, che consente al paziente di affrontare meglio il percorso terapeutico verso la guarigione. Favorisce, inoltre, la creazione di una rete sociale, preservando dall'isolamento soprattutto i lungodegenti e gli ospiti di strutture residenziali. Last Minute scade tra poco a mezzogiorno. Il termine ultimo è inderogabile per presentare la domanda di ammissione alla prova selettiva per accedere al primo anno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno scolastico 2016-2017, che sta per iniziare presso il Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute Tiberio dell'Università degli Studi del Molise. Tre i corsi di laurea, dietistica, infermieristica, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Ancora pochi minuti a disposizione, dunque, l'iscrizione deve essere effettuata per via informatica seguendo le istruzioni presenti sul sito www.unimul.it, portale dello studente. www.unimul.it, portale dello studente.